Buonasera a tutti e ben ritrovati al TG7 Basilicata. Apriamo questa edizione partendo da una notizia che riguarda la cronaca. Ieri sera i vigili del fuoco del comando di potenza sono intervenuti a causa di un incidente stradale nella rotatoria tra via Cicotti e via Digiura, proprio a Potenza. Giunti sul posto hanno rinvenuto due auto coinvolti, una Toyota Yaris e una Fiat 500. All'interno della Toyota, che a seguito dell'impatto si è capottata, un giovane, mentre nella Fiat 500 una donna, entrambi già fuori dalle rispettive auto. I vigili del fuoco hanno provveduto la messa in sicurezza delle auto per evitare l'insorgere di incendi. I carabinieri di Potenza hanno arrestato un 45enne residente nel capoluogo Lucano, ritenuto responsabile di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sabato scorso i militari hanno notato un'auto con a bordo un uomo che alla vista degli operanti ha effettuato una manovra sospetta. I carabinieri hanno eseguito dunque una perquisizione personale e una perquisizione dell'auto. Sono stati rinvenuti da un aerocontante in banconote di vario taglio, mentre in auto occultati all'interno del vano porta fusibili sono stati trovati 19 bussolotti, quattro dei quali contenenti cocaina. I restanti 15, sebbene vuoti, presentavano tracce della medesima sostanza. Il prefetto di Matera, Sante Copponi, ha nominato il viceperfetto Emilia Felicita Capolongo commissario prefettizio per la gestione del comune di Tricarico. La decisione segue le dimissioni di sette consiglieri comunali su 12 del comune di Tricarico. Siamo quasi sul finire di questa edizione, vediamo le previsioni meteo per domani. L'alta pressione africana perde ulteriormente forza, favorendo la discesa da nord di correnti più fresche, possibili annuvolamenti nel pomeriggio con piovaschi o temporali. Per questa sera è davvero tutto, l'appuntamento è domani. Grazie e arrivederci.